Un'intervista, cosa ne pensa di questa salita? Molto viscita! Ma Grini cosa ne pensa con la stroppa in mano? Io uguale! Purtroppo ho attaccato uno ma... Cristina, quando la comprasse la macchina ha deciso se non comprasse l'ape Lo lascio perdere! Con la pistola! C'ha l'ape, meglio di quello! Ma Grini, non scappo su con l'ape per mangiare le mani male Porca mano! Sto schiumando la lumaca io Tartuffi e funghi Ottimo direi Sentiamo un rombo nella foresta? In serio? Ma sei un bel libro No, no! E' lì, cavolo! Ma questo è meglio tu fai, non hai capito? Questo è il tuo pane ai miei denti eh! Amico del sole! Buon sacchino! No! Alla parte! Sì! Sto giù! Ok! Alla parte! Alla parte! Trenti, Trenti! Che è... Ottimo direi! Veniamoci a padrono! Grazie a tutti.